a tutti e grazie, sentite che il timbro di voce è varitonale proprio, sono quasi quadrimendo non tremendo, vi ringrazio, quest'anno è la prima volta che l'amministrazione comunale ci manda qui a Ventimiglia Alta a fare questo concerto, mi ricordo che ero ragazzino e già con la banda di Ventimiglia, la banda di Ventimiglia a Ventimiglia c'è solo una banda, si chiama Banda Città di Ventimiglia, tutte le altre non sono bande, sono delle curve, la nostra banda già nel 1960, veniva già qui a Ventimiglia Alta, 59-60 a fare dei bei concerti, qui c'era tantissima gente perché ormai c'era la tradizione di venire a fare dei concerti qui a Ventimiglia Alta, mi auguro che questo sia il primo di questa tradizione che andremo a scoprire e fare, mantenere nel contesto dei festeggiamenti di San Secondo anche i prossimi anni, perlomeno fare due concerti all'anno in stagione, in modo che la gente si abitui a venire perché credete veramente a un bel posto, anche voi musicanti che suonando forse non ve ne rendete conto ma c'è un'acustica, noi abituati a Risentero, alle Croceverdi, col picpistola, i pastori, capisci come? Invece qua siamo tranquilli, rilassati, anche gli sbagli si sentono, oltre alla musica si sentono anche gli sbagliati, fino adesso non avete sbagliato, Filardo, primo ci sono caduti i piatti, ma lui lo fa apposta perché ogni tanto fa parte del Croceverdi, va bene, tanto abbiamo piacere ancora di stare un pochettino insieme e magari vi dirò ancora qualcos'altro, vi ringrazio a nome mio, dalla banda e dall'amministrazione comunale, grazie a tutti e buon proseguimento e ringraziamo il nostro amico che ha una costanza tremenda, ci firma tutti i concerti, così ha la possibilità di ricattarsi nel secondo tempo. Grazie.